Domanda. Che rapporto c'è fra l'individuo e la società? L'individuo in ogni momento è diverso da ciò che era un attimo prima, come la società. Dall'interazione fra mutuamento dell'individuo e mutamento della società nasce il miglioramento dell'individuo prima e della società poi. Domanda. Che rapporto c'è fra l'individuo e la società? L'individuo in ogni momento è diverso da ciò che era un attimo prima, come la società. Dall'interazione fra mutuamento dell'individuo e mutamento della società nasce il miglioramento dell'individuo prima e della società poi.